Musica 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 Allora La storia che vi devo raccontare stamattina Anche la quale di oggi E di raccontarvi Come Si fa Per andare Da questo paese A Roma Musica Non solo un giornalista Dicevo non voglio fare inchiesta Sui trasporti al sud Di come Però Volevo raccontare Uno che deve fare Se non ha la macchina Ok E deve prendere i pezzi pubblici Che deve fare per Per poter arrivare a Roma Da questo paesello Musica 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 E' Musica E' Musica Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.